Il concerto è una parola per dire che lavoriamo tutti assieme, che facciamo sistema e quindi è rafforzativo di quello che è l'idea del sistema. Milano al centro, il salone senza Milano non esiste, Milano non esiste senza salone e quindi tutto quello che si aspettano tutti i visitatori è quello di trovare ancora questa Milano effervescente e questa creatività che è in tutta Milano e venire al salone per vedere cosa succede nel mondo del design. Tutti i creativi che ho visto verranno tutti a Milano, chi per far vedere la sua ultima proposta e chi per vedere cosa Milano vuole proporre per l'anno prossimo. Tutto il lavoro di un anno verrà messo nel salone del mobile, ci aspettiamo tutte le aziende che portino questa forza, quest'anno l'abbiamo chiamato addirittura Ingegno, questa nuova parola dove era chiusa un po' la voglia di fare bene, la curiosità e la tenacia di guardare materiali, nuove nuove vie per potersi raccontare, per potersi diffondere nel mondo. Leonardo è la parola che racchiude Ingegno praticamente, Leonardo la sua vita, il suo lavoro che ha fatto a Milano, la sua voglia di confrontarsi con tutta la società in tutto e per tutto e la sua bravura è proprio la bandiera di questa parola e anche la bandiera del nostro momento e quindi faremo anche degli eventi per legarci un po' a Leonardo che è stato il simbolo di Milano.